Bene, vediamo oggi, a chiusura della parte che abbiamo trascosso discutendo sulle misure in fisica, sulle incertezze delle misure e su come queste vengono utilizzate, presentiamo oggi una semplicissima esperienza di laboratorio in fisica, che è l'esperienza sul pendolo semplice, in realtà sulla legge di isocronia del pendolo, e qui sono alcune diapositive che avevo preparato qualche tempo fa, e questo è quello che vedremo, in realtà non tutto di questo, per la conclusione la vedremo un po' più avanti, ecco qui che vedete il nostro sistema fisico, che cos'è? Un pendolo semplice, come vedete è un sistema piuttosto semplice, però pur essendo una cosa di tutto elementare, è un sistema che contiene molta fisica, e analizzarlo ci permette di mettere in pratica proprio il succo, il punto chiave del metodo scientifico, cioè vado a investigare un fenomeno, faccio delle misure e trago delle conclusioni basandomi su queste misure, anche utilizzando strumenti matematici piuttosto semplici, noi lo faremo anche usando qualche strumento informatico, come il foglio di calcolo a suo tempo. Ecco, qui avete un filmato che ho girato tempo fa in laboratorio, vediamo se ci permette di vederlo, ok, vedete c'è l'astra metallica che sorregge il filo, e sotto c'è un pesetto che viene fatto oscillare, è una cosa estremamente semplice, ok, questo sistema, questo metodo, questo dispositivo ha una lunga storia, il primo dispositivo che utilizzava le oscillazioni, ecco lo vedete qua a fianco, questa specie di vaso strano, un sismografo in realtà del primo secolo d.C. trovato in Cina, molto più, in un'altra epoca, anche in Egitto si usavano il pendolo per contare il tempo, anche se non tutti sono della stessa opinione, e molti disegni di Leonardo da Vinci riguardano l'oscillazione del pendolo, e quindi è un sistema che attraversa diverse epoche, il primo che ne fa un'analisi quantitativa e scientifica, nel senso moderno del termine, è Galileo Galilei, e la leggenda narra che osservò, qui vedete in alto un dipinto che lo rappresenta, le oscillazioni di una lampada sospesa nel Duomo di Pisa, e lì, misurando il tempo di oscillazione, usando il battiti cardiaci, riuscì a intuire quella che poi dimostrò essere la legge di isocronia che andremo a verificare con le nostre esperienze di laboratorio. Questa leggenda, questa storia, viene narrata dal biografo di Galilei, che è Viviani, era un suo alunno, e la relazione che Galilei fa viene riportata in uno scritto del 1602, ed è un punto nodale per basare le sue obiezioni a quello che veniva ritenuto lo status dell'arte e della fisica, che era la teoria aristotelica del moto e delle forze, che vedremo in dettaglio un pochettino più avanti. Il pendolo viene anche usato in medicina, c'è un medico di origine daimata, ma in realtà era di lingua veneziana, Sartorio Sartorio, che usa questo sistema, il sistema del pendolo, per misurare le pulsazioni cardiache. E qui, quindi, è uno dei primi strumenti di misura utilizzato anche in medicina. Il passo successivo per introdurre l'utilizzo del pendolo come sistema di misura del tempo, viene circa nella seconda metà del XVII secolo, ad opera di un fisico ben noto, uno dei più grossi nomi della fisica, Christian Huygens, che costruisce il primo orologio a pendolo con una precisione piuttosto elevata per l'epoca, aveva un'incertezza di circa 15 secondi ogni giorno, d'accordo? Un altro personaggio importante, Robert Cook, che utilizza il pendolo per studiare l'oscillazione, in realtà l'uso quello che si chiama un pendolo conico, dove, più che delle oscillazioni, questo pendolo fa delle rotazioni, per fare un modello per dei molti planetari, in realtà quello che mi interessava era quello, e appunto Robert Cook. E l'interpretazione del, quello che vedremo del pendolo, in realtà fa parte della, quello che noi chiamiamo oggi la dinamica, quindi basandosi sulle forze che intervengono nel moto del pendolo, e queste vengono trattate e descritte quantitativamente nei principi a matematica di Newton, che è un personaggio, anche il contributo di Newton alla fisica classica è fondamentale, su questo spenderemo parecchio tempo. Qui, dopo quell'epoca, i recenti, i sviluppi un po' più recenti del pendolo, possiamo citare, per esempio, l'uso che se ne fa nel XVIII e XIX secolo, diventa lo strumento più importante per misurare il tempo, e nel secolo successivo si introducono anche correzioni per tener conto, ad esempio, delle diverse temperature, perché essendo fatto di parti metalliche, i metalli si dilatano con la temperatura, quindi ci vuole un sistema che compensi questa dilatazione. Altri pendoli vengono adattati, per esempio, per strumenti di utilizzo sulle navi, ovviamente le navi essendo continuamente sballottate, il pendolo aveva difficoltà a essere utilizzato, quindi va costruito un sistema di misura del tempo particolare, e ancora un uso fondamentale, fondamentale di importanza per la fisica, ma anche per gli altri campi della scienza, è il pendolo di Foucault, con cui Foucault per la prima volta fa una delle derivazioni importanti che mettono in evidenza il moto di rotazione terrestre, usando proprio un pendolo a cui il piano di rotazione è in moto, dovuto al fatto appunto della rotazione terrestre, una delle evidenze non astronomiche del fatto che la Terra ruota. più recentemente il pendolo comincia ad andare in declino come sistema di misura del tempo, con l'introduzione degli strumenti elettronici, essenzialmente con gli orologi al quarto, dalle prime anni del secolo scorso rendono praticamente obsoleto l'utilizzo di questo strumento. Questo l'abbiamo già detto, andiamo adesso in dettaglio a vedere il nostro pendolo. Di che cosa consiste? Beh, c'è un supporto, qui vedete il supporto in azzurro, di una corda che è normalmente un cavo che si ritiene totalmente sottile da non influenzare la massa del sistema, e a questo viene appeso questa pallina rossa, è un oggetto piccolino rispetto alle dimensioni del pendolo, dove si concentra, si viene concentrata l'intera massa del nostro sistema. Che cosa useremo per descrivere quantitativamente il nostro pendolo? Beh, useremo un metro per misurare la lunghezza, una bilancia per misurare la massa, e un cronometro per misurare la durata delle oscillazioni. Ok, attenzione al concetto di oscillazione. Se scostassimo il nostro pendolo dalla verticale, avremmo un moto oscillatorio, e per oscillazione si intende un'andata e un ritorno, cioè se il nostro pendolo parte dalla posizione A, scostata di un certo angolo rispetto alla verticale, l'oscillazione è l'andata da A a B a C, e poi il ritorno C, B a A. Quindi la partenza e il ritorno nello stesso punto. Quello si considera un'oscillazione, cioè un'andata e un ritorno. Quindi per misurare il tempo di un'oscillazione, misureremo il tempo che il pendolo impiega a muoversi, cioè a tornare nello stesso punto che tipicamente viene preso il punto in cui il pendolo sta fermo. Perché? Perché è più facile individuare nell'istante. Cioè è più facile sincronizzare il mio click del cronometro nel punto in cui il pendolo sta fermo, piuttosto nel punto in cui ad esempio passa l'umura verticale, perché in quel punto lì il pendolo ha la maggiore velocità. Quindi è più difficile avere una buona sincronia tra il passaggio in B e la mia presa del tempo a quel cronometro. Quindi si preferisce utilizzare i punti come punti di riferimento gli estremi dell'oscillazione, o quello di sinistra o quello di destra. Però posto che uno sceglie quello, l'oscillazione è l'andata e il ritorno. Cioè se faccio start quando lascio il pendolo della posizione A, rifaccio un click sul mio cronometro quando il pendolo torna in A. Questo deve essere importante. Allora, la questione che affronteremo appunto in laboratorio è legata alle caratteristiche dell'oscillazione del pendolo. In particolare le oscillazioni hanno una certa durata, ma sono la stessa per tutte le oscillazioni, cioè il pendolo che oscilla. Vi ricordate che prima abbiamo visto poi in laboratorio, vedete che l'ampiezza si smorza, non si riduce per effetto dell'attrito con l'aria, d'accordo? Ma la durata delle oscillazioni cambia nel tempo oppure no? Cioè le oscillazioni del pendolo sono tutte della stessa durata? E se sì, quanto vale questa durata? Quanto è la durata delle oscillazioni? E da che cosa dipende? Che cosa influenza le oscillazioni del pendolo? Proviamo a tornare un attimo indietro sulla figura. Vediamo se riusciamo. Eccolo. Qui, quali sono le grandezze fisiche che sono rilevanti in questo sistema, secondo voi? Anche se in realtà sono già listate, sono già elencate nella diapositiva. Quello che caratterizza il nostro sistema sono essenzialmente poche grandezze fisiche. La lunghezza del filo, la massa del corpo sospeso e la durata di ogni singola oscillazione. Quindi abbiamo bisogno di strumenti atti a misurare queste grandezze. E lo scopo è vedere se e come queste grandezze sono legate. Cioè la durata delle oscillazioni è legata, per esempio, alla massa del pendolo? Cioè se io cambio la massa di questo pallino rosso, le oscillazioni durano di più, durano di meno, durano lo stesso? Se io prendo un pendolo più lungo o più corto, parità di massa, le oscillazioni sono diverse, hanno durata diversa? Questo a priori non lo sappiamo. Bisogna andare a misurare e vedere che cosa succede. Allora, una delle idee è questa. Quindi abbiamo a disposizione le misure di massa del corpo sospeso, la lunghezza L, non so se questo non è un 1, è una L minuscola, del filo, e T la durata dell'oscillazione. Ora, semplicemente se il pendolo è veloce, la durata di una singola oscillazione è difficile da misurare, perché bisogna sincronizzare bene i due start and stop del nostro pronometro. E quindi è difficile avere... cioè sono misure affette da incertezza che potrebbe essere troppo elevata rispetto ai nostri scopi. Allora utilizziamo questa tecnica, questa specie di misura indiretta della durata delle oscillazioni. Se partiamo da quest'idea, immaginiamo che le oscillazioni del pendolo siano tutte della stessa durata, ok? Quindi ogni oscillazione, cioè ogni andata e ritorno, dura lo stesso tempo. Allora, se questo fosse vero, allora se io faccio 5 oscillazioni, la durata di 5 oscillazioni è 5 volte la durata di un'oscillazione. Se faccio 10 oscillazioni, la durata è di 10 volte quella di un'oscillazione. Se faccio 20 oscillazioni, la durata è 20 volte quella di un'oscillazione. Quindi, se faccio, ripeto, qui avete l'espressione formale, n oscillazioni, t con n, cioè la durata di n oscillazioni, è n volte la durata di un'oscillazione, ovvero sia la durata di n oscillazioni è direttamente proporzionale al numero di oscillazioni che facciamo fare al pendolo. Se riusciamo a verificare che questo funziona, cioè se i nostri dati sperimentali confermano quest'idea, cioè che, ripeto, la durata di tante oscillazioni è proporzionale al numero delle oscillazioni, allora possiamo dedurne che quest'idea del fatto che le oscillazioni sono tutte della stessa durata è confermata dai dati. Se invece non fosse così, non troveremo questa proporzionalità. Vi faccio un controesempio. Immaginate un giorno di mercato. Andiamo in piazza, in paese, un giorno di mercato, come fa il sè mercoledì, e immaginiamo di chiedere dei volontari, un certo numero di persone e immaginiamo di misurare la massa di queste persone. Ora, se misuriamo la massa di uno, due, tre, quattro, cinque persone, difficilmente troveremo che la massa totale è proporzionale al numero di persone. Perché? Perché potremmo trovare persone molto corpulente, persone magre, bambini, neonati, addirittura qualche mamma con il neonato, oppure persone di tipo molto diverso, di massa molto diversa. Quindi, considerare una massa di n persone, in generale non è esattamente proporzionale al numero di persone stesse, perché la massa di ogni singola persona è diversa, può cambiare anche tanto. Se invece trovassimo che cinque persone hanno cinque volte una certa massa, dieci persone hanno dieci volte la stessa massa, eccetera, potremmo dedurre che grossomodo la massa di ciascuna delle persone che abbiamo nel nostro campione, nel nostro sistema, è circa per tutti quanti la stessa. Ok? Almeno circa. E così è quello che vogliamo fare qui. Quindi, immaginiamo di misurare la durata di tante oscillazioni, che è più facile perché su queste l'errore casuale pesa di meno, ha un'importanza relativa più piccola, perché il tempo è più lungo, e quindi siamo in grado di confrontare la relazione che c'è tra la durata di tante oscillazioni e il numero delle oscillazioni stesse. Quindi, in questo caso, avremo una proporzionata di tipo diretta. Ok? E il rapporto tra la durata di n oscillazioni diviso il numero delle oscillazioni ci dà esattamente il valore, la stima, diciamo, della durata di una sola oscillazione del nostro pendolo. E questo è quello che faremo. Qui c'è un esempio di misure, però non voglio anticiparvi, e quindi procederemo a questo tipo di misurazione. Ok? Adesso passiamo alla lavagna, vediamo se riesco a cambiare. Facciamo un attimo. Ok. Dopo questa introduzione, andiamo a sviluppare qualche aspetto più quantitativo di quello che faremo in laboratorio. L'idea è quello di andare a misurare, a verificare l'isocronia delle oscillazioni. Cosa significa isocronia? E' un termine di natura greca. Iso significa lo stesso, cronos, tempo. Tutte le oscillazioni durano lo stesso tempo. Quindi, la nostra idea, cioè visualizziamo un modello. Il nostro modello è questo. La durata T con n di n oscillazioni è uguale a n volte la durata di una oscillazione. Vedete che il nostro modello si formalizza, si esplicita, si descrive da una equazione, cioè da una relazione tra grandezze a priori ignote. Una relazione formale legata a delle espressioni algebriche. Abbiamo n che rappresenta il numero delle oscillazioni e T con n durata di n oscillazioni. L'idea è questa. Se le oscillazioni hanno tutte la stessa durata, allora funziona questa legge. La durata di T n è proporzionale a n. che cosa potrebbe influire? E T1, equivalentemente, la durata di un'oscillazione la prenderemo come il rapporto tra la durata di tante oscillazioni diviso il numero delle oscillazioni. Questa grandezza da cosa potrebbe dipendere? Potrebbe dipendere, ad esempio, facciamo un punto di domanda, dalla lunghezza del filo oppure dalla massa del corpo sospeso o da chi chissà che cos'altro. Bisogna andarlo a verificare. Quindi cambieremo set di misure a seconda di pendoli che abbiano lunghezze diverse e masse diverse. Vedremo se questo risultato influenza questo numero. Però per prima cosa dobbiamo andare a verificare che sia valida questa idea perché altrimenti non ha senso parlare di durata di un'oscillazione se le durate di oscillazioni fossero diverse. Se il pendolo ha oscillazioni isocrone, cioè che hanno la stessa durata, ha senso andare a considerare da cosa dipende? Se no, no. Andiamo adesso a vedere che cosa faremo. prenderemo il nostro pendolo qui mettete che questo sia il nostro supporto qui c'è legato il filo e qui c'è la massa M. Il nostro pendolo farà delle oscillazioni fatemi fare la traccia in rosso tra un punto A e un punto B e per oscillazione si intende il passaggio A, B e di nuovo A quando l'oscillazione è completa quando il pendolo torna nel punto di partenza. qui adesso per mostrarvi come procederemo vi mostro alcuni dati presi in esperimenti che abbiamo fatto gli anni scorsi. Immaginate di avere in particolare un esperimento fatto tre anni fa un primo esperimento dove abbiamo la lunghezza del pendolo L1 misurata con l'asta che abbiamo in laboratorio l'asta fa una settezza di un centimetro la lunghezza era 57 più o meno 1 centimetri. Questa è la lunghezza del L, questa qui del nostro pendolo. e al pendolo era attaccata una massa M di se non mi ricordo male 90,05 più o meno 0,01 grammi abbiamo una bilancia abbastanza precisa al centesimo di grammo in laboratorio mi sembra che il dato fosse questo ma lo controllerò e poi avevamo dei cronometri eventualmente potremmo anche usare i cronometri dei cellulari e prenderemo anziché una sola misura prenderemo tante misure nel senso che ci saranno diverse persone io a quell'epoca ne avevo usate 5 quindi 5 persone prendono le misure quindi avremo 5 valutazioni 5 valori della durata delle oscillazioni e cominciamo con diversi valori di n prenderemo ad esempio un set di 5 oscillazioni poi uno di 10 uno di 15 e idealmente fino ad arrivare a 20 quindi 4 gruppi di oscillazioni e li mettiamo in tabella quindi nella prima colonna metteremo 5 oscillazioni e prendiamo per esempio 5 cronometri cronometro numero 1 numero 2 numero 3 numero 4 e numero 5 e immaginiamo di aver fatto già quindi contiamo 5 oscillazioni e riportiamo la lettura dei vari cronometri immaginiamo in secondi attenzione di aver ottenuto questi dati il primo da 7.28 il secondo 7.27 differiscono a causa degli errori casuali come abbiamo già avuto modo di discutere il terzo ci da 7.35 punto virgola se preferite la virgola decimale poi il quarto 7.41 sempre secondi e il fine 7.50 secondi quindi qui abbiamo come vedete misure diverse che differiscono per più dell'errore sperimentale perché? perché c'è gli errori di sincronia errori di funzionamento dei tempi di reazione e via dicendo ok? quindi abbiamo quindi base a queste misure quale prendiamo come indicativa abbiamo già visto che il valore affidabile di tante misure che supponiamo affette dal solo errore statistico è il valore medio quindi prenderemo T in questo caso 5 cioè la durata di 5 oscillazioni come la media di tutti i valori trovati quindi 7,28 più 7,27 più 7,35 più ancora 7,41 più 7,50 diviso 5 secondi attenzione e otteniamo se facciamo il calcolo 7,362 secondi ok? ma questo non ci basta bisogna sapere qual è l'incertezza di questa misura che chiamiamola delta T 5 qual è l'incertezza della durata delle 5 oscillazioni e qui abbiamo anche visto come si procede abbiamo il massimo T5 meno il minimo diviso 2 quindi in questo caso faremo il più grande che è 7,50 meno il più piccolo che è 7,27 sì diviso 2 sempre secondi e otteniamo approssimando 0,1 secondi quindi qui vedete che l'errore statistico casuale è importante perché questo 0,1 secondi è 10 volte la sensibilità dello strumento usato che è il centesimo di secondo non solo ma qui l'errore l'incertezza statistica cade sul decimi quindi dobbiamo buttare via il 6 per cui diremo che in base alle misure che abbiamo ottenuto la durata la durata delle 5 oscillazioni vale 7,6 lo butto via 3 lo tengo quindi 3 diventa 4 più o meno 0,1 secondi questo è il risultato della nostra misura ok quindi ripeto faremo dei set diversi di 8 oscillazioni faremo un set con 5 uno con 10 oscillazioni uno con 15 uno con 20 se abbiamo abbastanza tempo ne prendiamo diverse per valutare l'incertezza statistica quindi diciamo 5 perché per non esagerare con i numeri ma insomma più sono in realtà meglio è riporteremo le misure che abbiamo ottenuto dai nostri cronometri e poi per stabilire qual è la misura affidabile in base a questi dati ne faremo la media e l'incertezza sarà data dalla semidispersione massima cioè dalla più grande misura ottenuta meno la più piccola tutto diviso 2 e poi riporteremo con il numero di cifre opportuno ovviamente il valore misurato che sarà quello che il nostro esperienzo il nostro esperimento ci dice essere quello di quel numero di oscillazioni e così via ok ottenuto questo faremo la stessa cosa con le 10 oscillazioni qui avremo un'altra colonna con 10 qui con 15 e qui con 20 e otterremo un scusate un t10 qui da un t15 qui un t20 d'accordo e poi verificheremo che questi numeri stanno nello stesso rapporto del numero delle oscillazioni per esempio il t10 sarà il doppio di t5 t20 sarà 4 volte t5 ok oppure 2 volte t10 t15 sarà 3 volte t5 e così via se riusciamo a fare questo avremo verificato che il il nostro modello il modello di da cui siamo partiti cioè l'idea che le oscillazioni sono isocrone è verificato è sostenuto dai nostri dati d'accordo e poi impareremo anche come fare questi calcoli cioè non li faremo direttamente a mano ogni volta ma in realtà utilizzeremo per velocizzare la questione un foglio di calcolo e impareremo anche come fare il grafico cioè come illustrare graficamente sia la legge che andiamo a sondare andando a analizzare sia i risultati che abbiamo ottenuto e li metteremo in un grafico su utilizzando un foglio di calcolo d'accordo? se non ci sono domande per oggi mi fermerei qui